Ciao Nostelliani! Oggi vi spiegherò, com'è facile diventare famosi, attraverso uno, o più totali, che verranno inviati nelle ore in cui, i giocatori, sono più presenti. Cominciamo subito con un bel totale, scrivendo che abbandonate il game, e che regalate tutto il vostro inventario, e i vostri soldi. Mentre ci siete, promettete anche di regalare il vostro cane, la vostra casa, e tutte le vostre amiche vogliose. Ciao, sono un'amica vogliosa. Tornando a noi, più cose dite di regalare, più i barboni vi contatteranno, per avere qualche spicciolo, sperando che voi glielo diate veramente. Ricordate di fare questa cosa, solo se siete dei veri e appassionati, dei messaggi privati e dei barboni. Ops! Scusate, sono tornata per dare l'ultimo addio a tutti, prima che mi regalassero il primo barbone. Venduta al signor Renzo Barattolo di fagioli. Dicevamo Ecco i primi barboni, pronti a ciucciare il frutto del vostro sudore delle dita. Questa specie di nostelliani, ama restare ferma nella piazza principale, aspettando il momento giusto, per frantumare le palle al malcapitato, che si è permesso di scrivere che regala qualcosa. Questa pratica, vi permetterà di chattare per ore e d'ore, fino a quando le vostre dita, non si saranno consumate a tal punto, da non potervi più permettere di afferrarvi l'uccello mentre andate al cesso. Se siete invece dell'idea, che tutti i messaggi privati, debbano essere mandati a quel paese, digitate 1. In caso contrario, digitate 2. Se volete parlare con un nostro operatore, digitate 3. Se volete aderire alla promozione, ricco di merda per la vita, digitate 4. In caso contrario, restate in linea. Congratulazioni! Siete rimasti in linea. Siete aderiti alla promozione, ti pago a vita, al modico prezzo di 700 euro giornalieri. Invieremo sul vostro conto corrente, un addebito dell'importo di, 700, euro, più IVA. Grazie per essere rimasti con noi. Al prossimo video! Grazie per essere rimasti con noi.